Un focus sulla sanità non soltanto fanese ma un po' di tutta la provincia. Qual è lo stato di salute? Sì, la sanità provinciale e poi quella fanese che rispecchia la sanità provinciale sono un grave problema della nostra provincia. E allora partiamo dall'ospedale di Fano. L'ospedale di Fano è purtroppo ormai al capolinea, e non lo dice il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, ma lo dicono gli esponenti di quel partito che amministra la nostra regione, quindi la sanità regionale e provinciale. Ricordo l'anno scorso quando all'assessore Marchegiani sfuggì la notizia che Fano avrebbe perso l'ospedale pubblico per fare spazio ad una clinica privata. Notizia che è stata confermata in questi giorni proprio alle telecamere di Fano TV, dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, il quale in maniera anche un po' beffarda nei confronti dei cittadini fanesi, ha affermato che Fano è una città fortunata perché avrà una clinica privata. Ossia, secondo Matteo Ricci, secondo il PD, Fano sarà fortunata perché chiuderà l'ospedale pubblico e aprirà forse una clinica privata. Io credo di non dover commentare queste dichiarazioni del sindaco di Pesaro, così come credo anche di non dover commentare le dichiarazioni del sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha voluto rassicurare i cittadini sulla perdita della pediatria, riportando in maniera trionfale le parole del presidente della regione Ceriscioli, il quale ha detto che pediatria rimarrà a Fano, però il sindaco Seri si è dimenticato di riportare anche il resto della frase del presidente Ceriscioli, il quale ha affermato che sì la pediatria rimarrà a Fano, ma rimarrà a Fano fin quando non sarà realizzato l'ospedale unico.